Nuove acquisizioni per la sanità bresciana. Inaugurato a Gussago, un nuovo centro per le malattie neuromuscolari. E alla Fondazione Poliambulanza, un robot chirurgico di ultima generazione. Pierluigi Ferrari. Seduto alla sua console, il chirurgo manovra un robot di altissima precisione. Alla Fondazione Poliambulanza di Brescia, l'ultima frontiera della chirurgia mini-invasiva. Già una ventina da inizio settembre, gli interventi con il Da Vinci. Meno dolore, tempi di recupero più rapidi, dettagli ingranditi fino a dieci volte, manovre più facili e precise. So che siamo il centro, l'unico centro in Europa che fa il 90% dei pancreas, per esempio, del fegato e mini-invasiva. Forse con il robot ci arriviamo a fare il 100%. Era comunque un tassello mancante che abbiamo colmato in un contesto in cui l'attività chirurgica mini-invasiva è diventata protagonista. Novità anche sul fronte delle malattie neuromuscolari per la sanità bresciana. All'interno di me c'è lo spirito bresciano. Con la partecipazione dell'allenatore delle Juventus Andrea Pirlo, inaugurato la Fondazione Richiedei di Gussago, il centro Nemo voluto dalle associazioni con il contributo di numerosi donatori, convenzionato con gli ospedali civili e l'Università di Brescia. C'era la necessità di riuscire a dare una risposta al territorio di Brescia, ma anche alle province vicine a Brescia. Con i suoi 16 posti il centro è in grado di curare 800 pazienti l'anno.